Buonasera a tutti ragazzi, oggi farò vedere questo campanile personale di legno. Abbiamo un concerto di 5 campane in là, 2 fusi da Capanni, Roberto, Mazzola e anche Mazzola, ma sono 20 calcelli. Da ora farò scoltare la reghezza numero 1. Di fronte a un po' lo faccio vedere. Questi sono i due campanoni, i domenizzani e la piccola. Ora farò ascoltare la reghezza numero 1, quindi a presto le 90 campane, la trascoltola tutti. Ciao! Eccoci qua! Eccoci qua! Eccoci qua! Ora faccio la distanza del campanone. Eccoci qua! Ecco! Eccoci qua! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.